Piccoli campioni crescono. C'è anche molto di bianco-rosso nella vittoria dello scudetto Under-17 da parte dell'Inter, con Elia Visconti, più che promettente centrocampista piacentino, a prendersi di fatto la prima pagina nella finalissima tricolore contro l'Atalanta. È stato molto bello, anche perché l'anno scorso con i più grandi avevamo perso sempre con l'Atalanta all'ultimo minuto, quindi secondo me è anche un segno di rivincita, quindi è stato molto bello. Palma di migliori in campo con tanto di assist e gol partita, un sinistro dai 16 metri a gelare il portiere avversario. Il baby astro nascente made in Bettola la risolve così a metà del secondo tempo supplementare, gelando le speranze di un'ottima Atalanta, trionfatrice della passata stagione. È stata una partita difficile, lo sapevamo, anche perché in questo arco di anno abbiamo perso sempre con l'Atalanta, quindi volevamo un po' cambiare questo trend. Sono una squadra molto forte, però una finale è sempre una finale, abbiamo dato tutto, poi quello che è successo è successo. Il mio gol è frutto dell'aiuto della squadra. Ma nonostante i gol e i trionfi tra le fila della beneamata, Visconti non dimentica i suoi esodi. Ho passato a Propriacenza, è stato un anno molto bello, che mi ha aiutato a fare secondo me il salto di qualità, grazie anche alla società Propriacenza e al mister Campoloni che mi ha fatto fare quel salto di qualità in più che mi è servito. Tanto cuore e una qualità finissima. L'Enfant Prodige Scuola Propriacenza conquista così il suo primo scudetto, il pezzo che mancava al puzzle nero-azzurro per completare uno storico triplete, con campionato primavera, berretti e tricolore under 17, ora da esporre in bacheca. Indossare la maglia dell'Inter è responsabilità e non solo. A questa età poi soprattutto è una responsabilità che devi avere, però si gioca, però deve essere un'emozione, però ti devi anche divertire. Come se non bastasse, a distanza di 48 ore dallo scudetto, Visconti mette le mani anche sulla Supercoppa di categoria, travolgendo con un secco 3-0 il Como riduce dal successo nel campionato under 17 di Lega Pro. Eravamo comunque concentrati anche dopo i festeggiamenti perché sapevamo che era una partita importante, la società ci teneva tanto, quindi abbiamo preso la partita nel modo giusto e abbiamo portato a casa la vittoria. Il ragazzo sembra avere le idee chiare. Il calcio è al centro del suo presente e anche del suo futuro. Per ora ho basato tutta la mia vita sul calcio, però non si sa mai, bisogna sempre avere una seconda opzione. L'unica cosa è, secondo me, rimanere sempre umili anche dopo queste cose che, secondo me, sono quelle che ti fanno fare le saltine in più. È di un campioncino che stiamo parlando, ma nonostante trofei e gloria, Ilia è pur sempre un ragazzo di 17 anni e dopo i recenti successi sul campo è anche ora di pensare un po' alle meritate vacanze.